Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sciroppo di latte di mandorla. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, acqua e zucchero. Andiamo via alla ricetta. Mettere nel boccale le mandorle e le facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10. Cuocere per 5 minuti. 95 gradi. Velocità 4. Aggiungere lo zucchero ed azionare il bimbi. 25 minuti per 15 minuti. 95 gradi. Velocità 4. Adesso frullare per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. 6 minuti. 10 minuti. 21 minuti. 500 venti. 25 minuti. Жaskon Su. raffreddare completamente prima di chiudere e riporre in frigo sciroppo di latte di mandorla si conserva in frigo per un mese diluire a piacere con acqua 6-8 cucchiaini di sciroppo per ogni bicchiere d'acqua da 200 grammi grazie e alla prossima ricerca grazie